Oh, ciao a tutti, oggi sono qui per commentare come primo ascolto il video, cioè la canzone dei Green Day che si chiama Revolution Radio. Giuro, come sempre, che si chiama primo ascolto vuol dire che è un primo ascolto ed è veramente un primo ascolto, quindi non l'ho mai ascoltata, appunto, ok, faccio partire il video, ok, e il Lyric video. Oh, bella questa chitarra, finalmente cazzo, l'ultimo album che hanno messo le chitarre così, scoppie. Non sono proprio virilissime, però facciano... Mi ricorda molto l'atmosfera di... L'album dopo American Idiot, 21th Century Breakdown, bel drumming, vabbè, Tricool, è veramente tra i tuoi, sempre un grande. Bello il fraseggio! Bello Cazzurino? Vabbè che ricalca la linea vocale C'è anche la... Ma forever! Oh! Mi piace! Anche liric video è molto carino oh, mi piace ovviamente nulla di nuovo ma dai Green Day non ci si aspetta qualcosa di nuovo però si ritorna un po' indietro dimenticati un po' gli uno o due stress uno o due stress, non mi ricordo come si chiamano si ritorna un po' l'atmosfera di American Idiot 21 Century Breakdown credo che sia quello il titolo non mi dispiace per nulla bello, allegro, distorsioni che finalmente si sentono un po' di più sono un po' più cariche rispetto alle ultime canzoni orecchi abili, si sta sempre in testa Revolution Radio già è qua quindi come singolo direi perfetto promosso ok, questo è tutto come primo ascolto scusate le cuffie che non hanno molto spazio molto laccio ma questo è ok, ciao ragazzi e alla prossima Revolution Radio just rock just rock